Abbiamo presentato un ordine del giorno sul quale non c'è possibilità, diciamo così, di giocare. O sì o no. L'Italia non attivi in nessun caso il Fondo Salva Stati. Mi piacerebbe che questo Parlamento desse un segnale chiaro e mi voglio rivolgere ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Presidente, concludo. Allora, vede, ho letto non ci facciamo dividere dalla Meloni, non cadiamo nella trappola dalla Meloni. Sono disponibile a ritirare la mia firma su questo ordine del giorno. Sono disponibile a far sì che la prima firma sia di un collega del Movimento 5 Stelle. E dico sì, non vi dovreste dividere, dovreste votare con parti insieme a noi. Perché, signori, c'è un momento in cui la storia chiama. C'è un momento in cui la storia chiama. Molti di voi si sono candidati perché volevano fare la differenza, perché volevano fare la storia, perché volevano salvare l'Italia. Questo è il momento in cui potete farlo, perché c'è un giorno in cui veniamo messi di fronte a un bivio. E dobbiamo decidere con la nostra coscienza da che parte vogliamo stare. Noi non staremo dalla parte di chi vuole svendere l'Italia. Speriamo che siate con noi. La ringrazio.